In vista delle amministrative del 2014, Mogliano Veneto, cittadina del Trevigiano, ma immediatamente a ridosso della provincia di Venezia, vive una fase importante con le primarie, che interessano udite udite le liste civiche. Si vota domenica 1 dicembre, dalle 8 alle 22, al Centro Sociale Cittadino. Possono recarsi alle urne tutti i moglianesi che abbiano compiuto 16 anni, esibendo un documento di identità. Quattro dei cinque candidati del comitato Cambiamo Mogliano. Ma che cosa c'è da cambiare a Mogliano? Principalmente c'è da togliere il condizionamento da parte dei partiti. Noi ci siamo messi in gioco, siamo cinque candidati e abbiamo deciso da cittadini di formare questa squadra. Una squadra che sarà a disposizione dei cittadini che potranno costruire con noi anche un programma che chiaramente poi verrà presentato. Sono perfettamente consapevole del fatto che con i limiti imposti dal patto di stabilità è un problema amministrare un comune. Secondo me però è importante cercare delle sinergie con i comuni limitrofi in modo da poter creare delle economie di scala che consentano di dirottare le risorse recuperate, ad esempio sul finanziamento all'istruzione. Non solo, è importante lavorare in termini progettuali andando a cercare delle risorse dove ci sono, quindi a livello di finanziamenti regionali piuttosto che nazionali, piuttosto che europei, cosa che nel Veneto si fa molto molto poco. Mogliano, una realtà che ha bisogno di ripartire. In che senso? Beh, tutti i cittadini moglianesi sanno che è anni che si discute di certi progetti, quindi vediamo per esempio l'area Amolius, senza venire a capo. Quindi sicuramente la nuova amministrazione non potrà che ripartire dalle macerie lasciate dalle amministrazioni precedenti e assieme alla città, città vuol dire associazioni, vuol dire volontariato, vuol dire associazioni sportive, per lavorare assieme a un progetto comune. Un aspetto interessante e insolito è quello delle primarie che interessano le liste civiche. Sì, siamo un caso unico nel panorama politico locale, anche Veneto, e la cosa importante che ci ha spinto a proporre queste primarie civiche è proprio la volontà di coinvolgere il cittadino in queste scelte. Ormai il cittadino da un po' di tempo vorrebbe lasciar perdere, è un po' stanco di politica. Noi invece crediamo che da queste condizioni, da queste situazioni possiamo uscire soltanto se il cittadino vuole metterci il suo e la sua faccia e noi lo abbiamo fatto come cinque candidati a queste primarie.